Unito 358 fps nemmeno 158? 358 fps nemmeno VAC Eh ok qua c'è dato punto da rara No Doppio headshot Doppio headshot Doppio headshot Ah, cazzo. Cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Ah! Oh, cazzo. Oh, cazzo. Sanguinante. Oh, cazzo. Cazzo, cazzo. Cazzo. Non c'è più che il progetto, non c'è più che il progetto. No, no, oh, ah, da su No, no, oh, 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 oh Si, 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 si. No, non, no, 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 ah, oh, 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 oh ah Oh forse vai piano che io sono pelato eh eeeh vabbè adesso dai non puoi mai raccogliere lo shampoo che ti è caduto come tutti i pelati che ci rispettano maestro ma che shampoo usa a revambore che mi lascia i capelli luminosi e morbidi quali capelli? mi dispiace l'ultima domanda l'ho preso? o l'hai preso tu? no io mi sono fermato perchè mi stanno sparando in guarni 20 mira ah tipo quelli la eh allora l'ho preso io non mi ha dato punti però non so perchè non ho fatto tipo la super mega kill ah adesso vai mettiti alla mitraglietta si se me la fa prendere dai bella e c'è più nessuno? no 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 è pieno di 100 che scorreggio e che tiro ecco adesso andiamo a ma tira delle scorreggio sta mitraglietta eh voglio vedere se avanza adesso e io provare ad attivare eh mi sa che devi abbandonare il diniero si si io sto morendo e pensa eh si un attimo forse ma mori no più destra ripiegare ripiegare che camicia via via no ok non è nulla non è nulla non è nulla aspetta che provo a vedere se a girare di qua qua c'è qualche munizione no ma io ho fatto ah bravo guarda c'è un camion in gender che non si sa perché che sono lì disperatissimi no sono scappati sono usciti dal cancello beh buono ho fatto il doppio di più condizion si vabbè se è andato avanti a sparare e ha ucciso tutto grazie